Fascino ed eleganza, professionalità e poesia. Con queste quattro semplici parole si descrive alla perfezione Villa Ferdinando e Carolina, la location perfetta per un matrimonio da sogno. La struttura si compone di incantevoli spazi interni ed esterni modulabili che si adatteranno perfettamente alle vostre esigenze. La sala della musica, la sala Regina Carolina e la sala Re Ferdinando, tutte climatizzate e dotate di uno splendido pianoforte a coda, vi offriranno una capienza totale di circa 360 coperti. L'aperitivo a buffet potrà essere allestito accanto alla fontana che insieme ai giochi di luce offerti dalla natura conferisce all'esteso parco privato una magia unica ed irripetibile, tanto nelle ore notturne che nelle indiurne. Il personale di cucina dall'alto della propria esperienza pluriennale saprà proporre un menù perfetto, capace di soddisfare anche i palati più esigenti, unendo la ricca e prestigiosa tradizione gastronomica con le più creative ricerche contemporanee. E per garantirvi il massimo, gli abili chef di Villa Ferdinando e Carolina delizieranno anche la vista dei vostri invitati con sculture di ghiaccio e di burro nonché di frutta intagliata. Lo staff di Villa Ferdinando e Carolina sarà a vostra completa disposizione per la cura personalizzata di ogni dettaglio relativo al catering, alla mise en place, alle decorazioni e all'accoglienza dei vostri invitati.